Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, regina immacolata, celeste madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri i più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Io mi fanno con te. Apri le tue mani, Gesù. Apri le tue mani, Gesù. Io mi abbandono a te. Io non credo solo in te, Gesù. 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 dal libro di cielo volume 22 30 luglio 1927 come la vita sta nel moto incessante come questo moto produce la sorgente valore degli atti interni seguivo il santo volere divino ma sempre col duro chiodo di essere priva del mio sommo bene gesù e pensavo tra me qual bene mi viene dal seguire gli atti del supremo fiat sono priva di colui che ha messo fuori tutta la creazione con un supremo accento del suo volere e seguire la sua volontà e non vederlo vedere le sue opere che parlano di lui e non essere stretta fra le sue braccia è dolore indescrivibile è ferita che sanguina continuamente ma mentre ciò pensavo il mio amabile gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia la vita sta nel moto continuo tutto ciò che esce da dio deve possedere un moto sicché non c'è cosa da noi creata che non si muove cieli e terra sole e mare tutti si muovono con tale ordine velocità continua che non si fermano mai se si fermassero cesserebbe la vita e cesserebbe il bene che fanno al più resterebbero come pitture dipinte che non sono capaci di far bene a nessuno un bene un atto allora si può chiamare vero bene quando tiene il suo moto incessante ecco perciò il nostro essere divino è perfetto in tutti gli atti nostri perché tiene il suo moto continuo non cessa mai di fare e di dare il bene e se cessasse ciò che non può essere cesserebbe la vita del bene ora la nostra volontà vita ed eco perfetto del nostro essere divino è moto incessante e perciò è bene perfetto ed è un bene che può darsi a tutti quando un bene è incessante tutti lo possono prendere il suo moto continuo le fa possedere la sorgente dell'inesauribilità quindi chi deve vivere nella mia volontà deve possedere l'eco del mio volere seguire con moto incessante gli atti suoi il bene che ti viene è che ti mette nell'ordine del moto divino con rapidità incantevole ti muove e tu giri insieme con tutte le cose create gli atti tuoi sono inesauribili e tutti possono prendere il bene di essi perché partono dalla sorgente dell'eterno fiat e ti pare poco fare un bene che sempre sorge ed è questa la causa per cui nelle creature non si vedono veri beni e perfetti perché le loro virtù sono interrotte e come perdono il moto incessante di una virtù già cessa la vita del bene di essa perdono il gusto la lena la forza perché non possedendo il moto incessante non si forma la vita della virtù in loro né quell'atto che sempre sorge ma una cosa superficiale e passeggera quindi come possono dare il bene di quelle virtù a tutti se non possiedono loro la vita e la sorgente che mentre danno agli altri loro mai si esauriscono e nulla perdono perde forse il sole col dare la sua luce a tutti no certo perché possiede la sorgente della luce ed il suo moto di dare luce è incessante perciò figlia mia nella mia divina volontà gli atti tuoi le tue preghiere il chiedere il suo regno devono tenere il moto incessante per poter impetrare per tutti che il fiat divino sia conosciuto ed amato da tutti onde dopo ciò seguivo nel mio interno la santissima ed adorabile volontà divina ed il mio dolce gesù ha soggiunto figlia mia gli atti interni di un'anima che fa la volontà di dio sono scevri da qualunque male ed ombra di difetto solo il dio è testimone di un atto interno e mentre nessuno lo ha dita nessuno lo guarda nessuno ne parla il dio come testimone dell'operato della creatura dove a nessuno è dato di penetrare nell'interno della creatura la dita la guarda e ne parla tutto il cielo e molte volte anche alla terra dei grandi portenti dell'operato interno di questa creatura essere additato guardato e far parlare il dio in una creatura è l'atto è l'onore più grande che essa può ricevere e non può essere escluso di opere grandi che dio compirà per mezzo di esse gli atti interni sono ferite dardi frecce al seno divino sono messaggeri celesti che si sprigionano dalla creatura volano al loro creatore e portano l'impronta della gloria dell'amore e di piacere solo a colui che l'ha creata difatti chi vede chi ascolta chi apprezza tutto ciò che fai nel tuo interno nessuno solo io ne sono testimone l'ascolto e l'apprezzo ecco perciò nelle nostre opere più grandi scegliamo anime che apparentemente nulla danno di grande di meraviglioso ma anime inerti che non sono magagnate né da vedute umane né da strepiti rumori gloria e stima propria che portano le opere esteriori di fatti nella redenzione scegliamo una vergine semplice senza splendori esterni ma aveva il suo interno parlante che tanto seppe dire da sola sola al suo creatore che lo in sé ed ottenne la redenzione ora così abbiamo fatto per il regno del fiat divino abbiamo scelto un'altra tutta interna che tanto dirà che pregherà dio a concedere il regno bramato gli atti esterni anche buoni e santi non possono piacermi come gli atti interni perché gli esterni sono quasi sempre impregnati dall'aria della propria gloria dalla stima umana e delle volte anche da biasimo ed un povero cuore sente in sé gli effetti della lode oppure del biasimo dopo che ha fatto dei sacrifici e l'umano esce in campo ed investe con la sua aria tenebrosa gli atti suoi questi non giungono neppure a quello che dovrebbero essere invece un atto interno non è né biasimato né lodato e l'umano non ha da dove entrare l'anima stessa non sentendosi adocchiata da nessuno le sembra che non faccia un granché e perciò i suoi atti sono impregnati tutti di aria celeste perciò si attenta e fa che il tuo interno giri sempre nella mia volontà il brano che abbiamo ascoltato è una lezione a mio avviso basilare importantissima specialmente la seconda parte su cui ci fermeremo spero un po di più e che parla dell'importanza e del valore unico non c'è altro termine degli atti interni dovrà essere oggetto per noi non solo di profonda meditazione ma anche di verifica perché gli atti interni sono quelli che noi compiamo nel segreto del nostro cuore davanti a dio le offerte che gli facciamo gli atti di amore i pensieri che gli rivolgiamo le intenzioni che gli esprimiamo quelle cose che non sa nessuno al di fuori di dio solo e che anzitutto dobbiamo chiederci se e quanti ne facciamo nessuno può conoscere evidentemente all'interno di un'altra creatura però il sospetto che non pochi battezzati di questi atti interni ne facciano molto molto pochi forse quando nel silenzio rivolgono qualche preghiera di supplica al signore ma certamente che non ci sia una vivacità e una continuità di vita interiore da quello che si vede all'esterno come dire pare lecito considerarlo come possibile di più non si può dire perché certamente nessuno di noi può entrare nel cuore di un altro no però nella nostra meditazione personale poi passiamo a continuare con ordine la prima cosa che dobbiamo chiederci è come è la mia vita interna la vita nella divina volontà è una vita il cui interno giunge fino al punto di non cessare praticamente mai cioè in qualunque momento della giornata dovunque noi siamo sorpresi potremmo dire in questo momento io sto amando il mio gesù e la mia divina maria sto vivendo al loro cospetto sto cercando di fare quello che vogliono gli sto di quando in quando parlando rivolgendo un pensiero un atto d'amore un'offerta bene detto questo procediamo con ordine e partendo dalla prima parte la prima parte a cui per la verità io leggendola pensavo a come ci fossero arrivati già addirittura i filosofi pagani il fatto che la vita c'è dove c'è movimento dove c'è moto questo principio noi oggi sappiamo qui gesù non scende troppo in particolare fino a alle nostre grandi conoscenze scientifiche contemporanee ma evidentemente le conoscenze scientifiche contemporanee non fanno altro che confermare le parole che dice gesù tutto ciò che esce da dio deve possedere un moto noi sappiamo che anche la particella elementare della materia che è l'atomo a noi sembra che esista la materia con la cosiddetta materia inerte no la materia inerte che non si muove tu stai davanti a un tavolo il tavolo è movimento assolutamente no il tavolo è fermo poi tra l'altro il tavolo non respira il tavolo non si alimenta non si nutre quindi quindi quali movimenti ha comunque le movimenti ha gli atomi di cui è composto il tavolo va a vedere quanti movimenti hanno e a che e a che velocità insomma tra l'altro viaggiano no sappiamo anche che la terra sembra che sia ferma ma la terra gira intorno a se stessa se non mi ricordo male a adesso non mi ricordo credo 1800 chilometri al minuto forse e intorno al sole a qualcosa come 100 mila chilometri circa l'ora velocità abbastanza abbastanza considerevoli eppure noi abbiamo l'impressione di stare completamente fermi ecco quindi questo è quello che ci appare invece la vita c'è dove c'è il moto e attenzione qui Gesù comincia subito a far comprendere che non si tratta come dire di 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 movimento appunto esteriormente percepibile perché anche dove non c'è la percezione esteriore il movimento nelle cose grade c'è comunque ma ecco il movimento che introduce alla seconda parte del discorso soprattutto interno che deriva e dal dal non cessare mai ecco di seguire gli atti della divina volontà la quale a sua volta spiega Gesù è movimento ininterrotto a un moto continuo e che cosa fa non cessa mai di fare e di dare il bene cioè non potremmo dire che Dio è una non vorrei insomma usare ma è come se fosse se mi si può passare questa immagine in particolare la divina volontà una fabbrica a ciclo continuo che nanosecondo dopo nanosecondo ininterrottamente produce una valanga incalcolabile di beni e di meraviglie sempre continue sempre attuali e sempre nuove ne fa una cioè questo noi non possiamo insomma immaginarci una cosa di questo genere cioè la sorpresa che incontreremo in paradiso cioè perché Dio è questo per questo che non c'è prezzo diciamo così per raggiungere il paradiso cioè lì c'è una ininterrotta ininterrotta e continua incessante beatitudine che si rinnova istante dopo istante noi facciamo l'esperienza nella nella vita terrena no e tutte quante le cose belle piacevoli le viviamo e poi sfuggono no e quindi una volta che sono sfuggite non è che io sono contento di quello che ho vissuto ho visto un bel film ah va bene adesso basta non vedo più manco un film in vita mia no se ho visto un bel film non vedo l'ora di vedere un altro bel film d'accordo e poi un altro ancora e poi un altro ancora ma si tratta di piccole cose come dire umane no però questa nostra tendenza che certamente in alcuni casi può addirittura dare luogo in questo mondo segnato dalla dall'imperfezione strutturale in cui ci troviamo evidentemente anche a vizi no cioè tutto giorno dati alla televisione o chi o chi esagera su queste cose però di per sé se noi ci pensiamo non fa altro che darci una spia di quella che sarà la beatitudine perché nella beatitudine non esisterà come dire nessun tipo di frustrazione nessun tipo di desiderio che non sia non solo soddisfatto ma al di là di tutto quello che potremmo concepire immaginare in questa vita terrena questa è la divina volontà ecco perché chi comincia a viverci in questo mondo è certo che anche è chiaro che in questo mondo non esiste la beatitudine però in un certo modo misterioso ma vero e reale comincia a goderne e quindi conosce quella che gli uomini chiamano la felicità è vero che in questo mondo lo sappiamo ci sono tante prove tante sofferenze tanti dolori ma basta guardare la vita di gesù e di maria nessuno ha sofferto tanto quanto gesù e maria durante la vita terrena ma è anche vero e dobbiamo sempre vederle tutte e due le facce della medaglia che nessuno è stato tanto felice e beato anche nella vita terrena quanto gesù e maria sono due cose che vanno insieme tutte le vite dei santi se noi andiamo a vedere sono vite segnate profondamente dal mistero della croce tutte e la croce qui c'è semplicemente perché è arrivato il peccato altrimenti veramente cioè la vita terrena sarebbe diventata sarebbe stata come era nei progetti di dio il paradiso terrestre che era l'anticamera del paradiso celeste quindi senza il peccato ci sarebbero state soltanto quel senso di felicità già grande che si vive in questo mondo e che attende di diventare non semplicemente quel grande che già è ma quell'infinito quell'immenso quell'imponderabile quello che soltanto dio si sa inventare per le sue amatissime creature che attende di fargli godere in eterno è arrivato il peccato e quindi in questo mondo ci vuole la croce perché l'eliminazione del male del peccato passa attraverso il dolore alla sofferenza questo c'era insegnato all'opera della redenzione e questo rimane è una corta non possiamo pensare che che questo lo possiamo eliminare perché questo rimane tuttavia quando si comincia a vivere e a sentire gli effetti della divina volontà la vita diventa veramente un'altra cosa gesù spiega a un certo punto no che chi vive nella sua volontà deve possedere dentro di sé l'eco del volere seguire con modo incessante gli atti suoi dice il bene che ti viene quanto bene diviene il bene che ci viene noi non ce lo possiamo neanche lontanamente immaginare una delle cose per esempio spiega gesù anche se indirettamente che accade quando si vive nella divina volontà è che le virtù cominciano a non andare più come accadono in tanti esseri umani a come dire a io io adesso lo io io quindi a a periodi cioè in un momento sono tanto virtuoso in un momento lo sono molto meno in un momento sono calmo mite pacifiche in un altro momento divento iracondo irascibile eccetera no il momento faccio tante opere di carità poi non al momento successivo faccio più niente ecco queste oscillazioni dipendono semplicemente dal fatto che non c'è nella creatura quel moto incessante di cui il signore parla e che in questa vita si manifesta proprio in questa stabilità ordinarietà costanza ecco nel produrre nel nostro piccolo bene su bene bene su bene bene su bene d'immagine di quello che è la vita intima di dio e la divina volontà in dio e fuori di dio perché la divina volontà non fa altro che questo ora attenzione ecco e seconda parte il valore degli atti interni il valore degli atti interni qui dobbiamo veramente farci una sosta di lunga durata che suggerirei protrarla oltre e riconsiderarla titolo personale e oltre i limiti di tempo non sono più molto ampi e massimo un'altra decina di minuti che durerà questa meditazione allora abbiamo già accennato cosa sono gli atti interni qui c'è proprio diciamo così tutta la cifra dell'autenticità della nostra vita anche cristiana non soltanto della nostra vita nella divina volontà e innumerevoli volte abbiamo meditato su questo punto ho io un rapporto intimo personale vissuto praticato con gesù punto interrogativo ci parlo ininterrottamente all'interno del mio cuore mi rivolgo a lui è una persona reale quindi non semplicemente una non meglio definita idea insomma molte persone pensano a dio come qualche cosa di di etereo di astratto di lontano non come un essere personale che conosce tutto di te anche le i movimenti interni anche le fibre del tuo cuore anche un minimo movimento della tua anima un minimo pensiero una minima intenzione tutto a giorno come dire giorno di mezzogiorno insomma al al cospetto di dio ecco il problema è che per dio è così ma per noi è così quindi noi dobbiamo ininterrottamente dovremmo ininterrottamente questo non è chiaramente un dovere etico un dovere morale e stare davanti a lui parlargli cioè la vita nella divina volontà nella nella sua come dire statura adulta diciamo così nella sua età matura nella sua versione diciamo così completa integrale comporta ce lo siamo detti tante volte una connessione ininterrotta e questo piano piano cioè si va a manifestare in tutti cioè nella santificazione di tutti quanti gli atti che noi compiamo cioè come faccio io per esempio a dormire sempre nella divina volontà diciamo che per farlo è una cosa molto semplice basta che prima di andare a dormire chiamo la divina volontà a dormire in me offro alla divina volontà il mio sonno chiedo a gesù viene a dormire in me chiedo alla madonna viene tu a dormire in me santifica anche questo altro tutto quello che compirò nell'incoscienza in questa notte perché anche quest'atto allora ma se per esempio non lo faccio quasi mai mi dimentico di fare questa cosa che significa significa che il mio contatto interno con gesù non è ancora come dire fluido continuo ordinario perché altrimenti non me lo dimenticherei cioè verrebbe verrebbe una cosa naturale spontanea la stessa cosa quando si si fanno gli altri atti della della vita quotidiana lavarsi vestirsi mangiare e svestirsi la sera entrare in macchina andare al lavoro e parlare incontrare una persona non lo so cioè allora la nostra vita cresce la nostra vita nella divina volontà ma anche la nostra vita cristiana tanto più quanto tutte quante queste cose vengono santificate e come si fa parlandone con gesù offrendoli a gesù chiamando gesù a farle noi unendoci cioè quindi e cosa sono questi queste sono cose che non si fanno ad alta voce non bisogna mai farle ad alta voce non bisogna mai ostentarle d'accordo certo all'inizio della della meditazione essendo questa una meditazione che è destinata perché sembra così voglia anche se una cosa che costa un po insomma ad essere condivisa la preghiera preparatoria per esempio la faccio ad alta voce ma quella è una cosa che dire gesù ti amo con la tua volontà viene divinata pregare in me è una cosa che ordinariamente si fa come atto interno quindi è una cosa che nessuno sa ma dio la conosce molto molto bene gesù spiega l'importanza di questi atti perché non soltanto perché questi sono i più sicuri d'accordo perché ogni cosa che noi facciamo esternamente gesù lo dice anche se tu puoi dire ma io lo faccio per amore di gesù ma se ti arriva una lode dice gesù tu quella lode la senti cioè non puoi essere così presuntuoso da dire a me non mi importa niente tanto se c'è se c'è non c'è per per me la stessa cosa non è vero d'accordo la stessa cosa si arriva un biasimo o si arriva una critica non è la stessa cosa d'accordo quindi nelle nostre cose esteriori e tutto ciò che è umano condiziona influisce d'accordo non c'è niente da fare e quindi per carità cioè è necessario fare anche delle cose esteriori che facciamo in questo in questo mondo a meno che uno non fa l'eremita cioè è indispensabile che faccia alcune cose esteriori ma la cosa importante è che dietro queste cose esteriori ci sia prima e soprattutto una vita interiore di modo tale che sì purtroppo i riverberi esterni di quello che faccio quindi riscontri è inevitabile che io li percepisca però almeno a livello interno ci sono continui gesù li chiama ferite dardi frecce al seno divino messaggeri celesti che si sprigionano dalla creatura dio le vede quelle cose cioè non è che dice dio non guarda l'opera che tu stai facendo dio guarda l'interno da cui è animata quell'opera cioè su questo ecco perché la principessa del regno della divina volontà è la madonna la madonna tantissime volte gesù l'ha spiegato sulla vita terrena nella vita della madonna non ha fatto neanche un miracolo neanche uno visibile quali miracoli ha fatto la madonna per esempio ha fatto diciamo così il signore del servito di lei i più grandi quelli invisibili qual è stato il primo la santificazione di elisabetta e la liberazione dal peccato originale di san giovanni battista ma è bastata la presenza non c'è stato niente di appariscente d'accordo qual è stato l'ultimo a detta di qualche testimone la conversione del buon ladrone che qualcuno ha scritto che quello si è deciso a rivolgersi alla misericordia di gesù vedendo la dolcezza di come era guardato semplicemente dalla dalla madonna che certamente pregava per la conversione di quel povero disgraziato che stava suppriziato a fianco al figlio quindi quello che dio guarda è questo e non dobbiamo pensare che i nostri atti interni non servano a niente ma per carità di dio perché gli atti interni sono esattamente tutti quelli che contribuiranno infinitamente alla diffusione del bene e alla gloria di dio tutte le cose cioè fare un giro nella divina volontà mettere un ti amo per noi e per tutti in qualunque delle opere che dio ha fatto nella creazione su questo ci possiamo sbizzarrire stancare tanto quanto vogliamo non è una cosa che non che che parte che dio la vede ma da quell'atto interno derivano infiniti benefici che tu non conosci qui in questa vita e quindi non te ne potrai vantare d'accordo ma che ho fatto ho detto su ti amo prendo il ti amo che mi viene dal raggio del sole lo ricambio con il mio ti amo per me per tutti gesù grazie per averlo creato che ti sei inventato a creare il sole questo adesso ho esternato un atto che ordinariamente quando si fa rimane nell'interno noi non sappiamo chi li fa cioè chi mi vede esteriormente mica sa quello che c'è nel mio cuore non sa quello che sto pensando non sa quello che sto facendo questo vale per me vale per chiunque ascolta questa questa ecco perché poi gesù dice non giudicate mai nessuno e per nessun motivo ma tu che cosa ne sai cosa c'è dietro l'agire dell'uomo diciamo quello ha fatto una cosa cattiva ma tu sei sicuro che quello ne è cosciente che quella è una cosa cattiva che è consapevole che non ci abbia qualche circostanza scusante o qualche circostanza attenuante quanto meno che ne sai tu cioè il nostro interno è conosciuto da dio solo per grazia di dio ecco perché noi dobbiamo cioè la misura della della mia fede se io ci credo a questo è evidente che la mia vita interiore sarà iperattiva come dice gesù non siamo soltanto iperattivi a livello esteriore perché tutte le anime che stanno nella divina volontà non sono inerti e abbiamo sentito che ha detto sono iperattive perché la divina volontà è un vulcano che non si ferma mai di far fuoriuscire beni su beni le tizie su le tizie felicità su felicità gioia su gioia grazie su grazie non si ferma mai e i figli della divina volontà si fermano mai sia a livello interno e qualcuno che deve lavorare anche a livello esterno anche anche a livello a livello esterno sono dei cicloni inesauribili perché assomigliano a a colui in nome del quale vogliono vivere e in forza del quale vogliono vivere ma l'interno viene sempre prima gesù conclude dicendo un atto interno non è né biasimato né lodato perché nessuno lo conosce non ti possono dire bravo né cattivo lo conosce non tanto nostro signore e quindi l'umano quindi la stima propria la considerazione delle creature farlo per far contenti gli uomini perché ti dicano bravo per il per il ritorno per l'interesse che tu potresti averne non c'è semplicemente non c'è perché non lo sa nessuno quindi l'anima stessa dice non sentendosi ad occhiata da nessuno ecco la nostra la nostra percezione ti sembra che non faccia un granché dice ma che sto a fare io ma che servono queste cose non faccia un granché meglio così se pensi questo dice il nostro signore rallegrati perché se pensi questo vuol dire che tutti i tuoi atti sono impregnati di aria celeste perché l'aria celeste è aria umile quindi uno deve sempre pensare che non sta facendo un granché e guai a chi pensa differentemente e non serve dirlo d'accordo dio non guarda quello che diciamo io sono un peccatore io non so buono a fare niente si può dentro di te ti pensi di essere il padre eterno in terra dio guarda quello che tu guarda il cuore guarda quello che tu pensi profondamente nel cuore ecco perciò si attenta e fa che al tuo interno giri sempre la mia volontà questa è la età punto adulta matura quindi quando queste operazioni divengono praticamente ininterrotte io sto sempre in contatto in ogni istante il mio pensiero il mio cuore il mio amore i miei affetti le mie intenzioni volano verso il cielo le vede soltanto il signore ma resta santificata la mia anima e tutto ciò che mi gira intorno e viene prodotto tanto di quel bene che solo in paradiso quando dio vorrà ne avremo coscienza e percezione meno santa vergine ma di oggi più che mai veniamo alla tua scuola ad imparare con dalla tua anima debordante di questi infiniti atti interni a vivere in questo modo tutto quanto divino possa per tua intercessione ecco la grazia aiutarci a proseguire a livello personale le nostre considerazioni a fare un po un punto della situazione come la nostra vita intima con voi interna ecco e se fosse deficitaria aiutaci a farcene comprendere l'assoluta importanza e a cominciare a investire molte risorse in essa nella divina volontà nel nome del padre del figlio dello spirito santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ame fiat ave maria